Buonasera, volevo ufficialmente ringraziare il dottor Nichinonni per aver servito la causa all'interno del comune di Terni, per essere stato sino ad oggi, ad ora, dove apprendiamo delle sue dimissioni, un assessore valido che ha comunque svolto la sua attività in maniera corretta e credo con coscienza. Apprendiamo che ha deciso di non fare più parte di questa squadra, ne siamo rammaricati, ma accettiamo le sue dimissioni, come abbiamo già detto a lui, e siamo felici se avrà un futuro migliore, con una professione importante, la professione che ha sempre svolto nella sua vita. Lo ringraziamo per essere stato preciso e puntuale e lo sostituiremo il prima possibile. Sicuramente per quanto riguarda la delega al personale resterà a me, che sono il sindaco, e daremo invece le altre parti più innovative e più complesse a un nuovo assessore. Detto questo, purtroppo non ho Instagram momentaneamente e quindi il Corridore pubblicherà questo mio messaggio per la stampa e almeno domani leggeremo anche degli articoli anche sul messaggero. Buonasera a tutti. C'è un signore che mi saluta sempre, quindi voglio salutare anche io a voi. Paolo.